Dopo Milano, Torino e Roma arriva a Bari la quarta tappa del G-Day 2012. Si tratta del primo appuntamento per il capologo pugliese dedicato ai giovani neolaureati e neodiplomatiche devono fare l'ingresso nel mondo del lavoro. L'iniziativa è organizzata da G-Group, una delle più grandi agenzie italiane per l'impiego. Nell'aulamania della Facoltà di Giurisprudenza i referenti di alcune aziende commerciali che hanno aderito all'evento hanno incontrato i giovani per spiegare il modo più semplice ma al tempo stesso più efficace per cercare un lavoro. Un'impresa non semplice in questo periodo dove la disoccupazione in Puglia tra i 15 e i 24 anni ha toccato quota 39,1%. Il dato supera quello nazionale che si aggira sul 35,2%. Ogni ragazzo alla ricerca di un lavoro dovrebbe capire innanzitutto quello che vuole e può fare e quindi non disperdere le proprie energie muovendosi in maniera un po' così disordinata ma puntare su quello che realmente gli può dare maggiori possibilità poi di inserimento. Percentuali poco confortanti a parte, secondo gli esperti, per cercare un lavoro è necessario non accorgersi a 30 anni di essere senza occupazione. Dunque occorre impegnarsi già dal periodo adolescenziale attraverso il supporto del sistema scolastico e delle famiglie. C'è da dire che qualcuno trova lavoro, quindi qualcuno ce la fa. Probabilmente è un percorso che va iniziato un po' prima, non bisogna accorgersi a 30 anni di dove si sta mirando, probabilmente vanno fatte delle scelte giuste già al momento della scuola e in questo senso le aziende e noi che arrivano in un momento un po' più successivo difficilmente riescono a recuperare situazioni che sono già critiche in partenza. Per cui probabilmente c'è bisogno che tutti lavorino per questo e soprattutto che magari la scuola e anche le famiglie facciano capire in età più prematura, già da piccolissimi, da giovani, come si può costruire poi un futuro all'interno del mondo del lavoro.